Inizia il terzo quarto dell'incontro sul putteggio di 21-41 per Mozzo a Lazzani, al capitano del casteggio. Cos'è bene la manovra. Molto bella entrata, peccato per il tiro. Ancora rimessa per il casteggio, Zagli. Molto bella l'azione del numero 6 del Pozzo, Gagni Daniele. Lomba, il tiro di Romani, inizia in attacco, ancora un pozzo in attacco. Rimessa per il casteggio. Capitano Scordino. Romani anche al secondo puttativo. Quasi concitate dell'incontro con i mozzi in attacco. Palla del casteggio. Due tiri riferiti per il numero 8, Moretti Leonardo. Capitano. Assegna il primo tiro libero. Anche il secondo a canestro. Riparte il casteggio. Palla del numero 12, Torri Marco. Dalla lunetta il capitano Scordino Simone. bene il primo tiro libero. Assegna il secondo. Doppio cambio per il mozzo. riparte in attacco la squadra di Bergamo. Il montaggio 45-35. Buono l'antissimo di Zagli. riparte in attacco. 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 Riparte in attacco Fiscato, passe numero 8, Moretti Rezardo, il Pape Casteggio sempre per suo capitano, numero 32 su aprino, scarico, presa dalla palla dal mozzo. Grazie per la visione! Grazie! 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 Aggi! Buongiorno a tutti. 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 Nel termine del terzo quarto Ancora segno Yelma Luca Il play del casteggio Grivelli Organizzava la manovra L'attacco per il casteggio A pochi secondi nel termine del terzo quarto Fallo del numero Sette che esce il posto Del capitano Scordino Simone Pochi secondi Attenzione Buona ripresa del casteggio Il terzo quarto Il toque ventisette Buona ripresa del casteggio